Primo spettacolo In questi cinque anni, diciamo, ho pensato un po', sono andata un po' alla ricerca di me stessa a capire che cosa avevo bisogno di dire e nel frattempo ho lavorato in teatro, ho scritto delle musiche per uno spettacolo teatrale e finalmente mi sono laureata con una tesi in etnomusicologia sul canto a sarda chitarra e questo mi ha fatto un po' riscoprire davvero e conoscere a fondo le mie radici che poi ho riportato nel mio nuovo disco Certo, perché c'è la Sardegna all'interno di questo albo che c'era solamente in parte o pochissimo nel tuo disco precedente No, non c'era nel disco precedente Quindi questo è proprio un riabbracciare un po' anche la tradizione, la lingua perché alcune canzoni utilizzi il dialetto sarda Sì, utilizzare la lingua sarda per me penso che sia un modo per descrivere meglio chi sono e far venire fuori ancora di più quella parte un po' viscerale, un po' primitiva che appartiene a tutti gli isolani o comunque tutte le persone che vengono da una terra con delle radici così profonde E poi, come dici in equilibrio, sto in equilibrio fra la terra che mi ha fatto nascere un po' e la terra dove approderò un giorno che ancora non conosco quindi porto con me le mie radici proiettata verso un qualcosa che arriverà Questa tradizione sarda che non è solo la lingua, come ci accennavi poco fa è anche uno studio di quelle che sono le tradizioni i canti tradizionali, la tradizione anche piuttosto famosa che arriva dalla Sardegna e che ha tutti i suoi rituali Sì, 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 no, il canto sarda chitarra la cosa più bella è stata che per poter descrivere questa tradizione sono dovuta tornare in Sardegna perché di teorico, comunque di approcci teorici dei libri scritti su questa tradizione non ce n'erano e quindi sono dovuta tornare a casa, andare porta a porta dai signori un po' della tradizione che mi hanno cantato, mi hanno spiegato, mi hanno offerto la cena, il vino, qualsiasi cosa sono rientrata un po' nel mio mondo che, diciamo, essendo a Roma da cinque anni un po' mi mancava e lì ho preso un po' coscienza di quelli che erano gli elementi che comunque mi appartenevano però non ero totalmente consapevole di averli Senti, invece la storia di Ubaldo e Loredana che canti in questa canzone che adesso ci ascoltiamo, che storia è? È un po', lo posso dire, la mia storia La tua storia, quindi molto autobiografica Sì, molto, perché sai, in questo momento, come voi ben sapete, essere ascoltati è un po' difficile e succede che per tutti devi fare sempre delle cose dove rischi, non rischi dove devi essere un po' pro il pubblico, un po' non so come dire e allora io ho deciso con tenacia invece di fare come mi pareva di fare quello che volevo io, di fare quello che mi sentivo